Ragazzi, la cena dei reggiri, torniamo assieme con l'ospite di questa settimana. Chi è l'ospite di questa settimana? Lo introduce Panda. Esatto, esatto, perché loro si chiamano Nuclear Detonation. E quindi il silenzio, bravissimo Panda, interpretava il silenzio dopo la... ...l'epunga tonica. Bravissimo, vengo da Reggio Calabria, l'abbiamo intervistati alla fine, la serata metallare, adesso ci becchiamo in questo video, ragazzi, tra l'altro sono di Reggio, quindi bisogna anche foraggiare i reggini. Nuclear Detonation, vai col video. Ragazzi, bentornati alla cena dei reggini, parliamo adesso con i Nuclear Detonation, una band giovanissima, formata nel 2012, ma già pronta al suo primo lavoro discografico. Ragazzi, parliamo insieme dei Nuclear Detonation, una piccola descrizione della band e della vostra musica. Ci siamo. Bene, noi siamo nati nel 2012 da una mia idea, sono Luca, cantante e chitarrista del gruppo. Avevo l'intenzione comunque di esprimere i miei sentimenti, quindi la mia rabbia, qualunque tipo di sentimento, attraverso questo veicolo che è la musica. Il mio genere preferito è appunto il trash. E così nasce il nome, Nuclear Detonation, e il tipo di musica. Il gruppo ha avuto un po', diciamo, un'esistenza travagliata. Se non sbaglio abbiamo cambiato 13 componenti, nell'arco di due anni. Un esercito. Un po' sì, diciamo, e lo so, lo so, lo so, ragazzi, però, diciamo che, come una fidanzata che non va bene, magari anche il componente di un gruppo può non andare. Certo, certo. Adesso, però, con l'entrata dei ragazzi, Pippo Chiuto, la batteria, Emanuele Merlo, chitarra solista, e Andrea Pulviventi al basso, sembra che le cose stiano filando bene. Difatti siamo vicini alla pubblicazione del nostro primo lavoro in studio. Iniziamo intanto con chi ci sta seguendo, diamo un riferimento internet dove trovarvi sul web per scoprire un po' di più di voi. Sì, perfetto. Ci potete trovare facilmente su Facebook, cliccando sulla pagina Nuclear Detonation, Detonazione Nucleare, e magari mettendo pure un mi piace, così seguite tutte le nostre vicissitudini, va? I nostri guai, le nostre cazzate, un po' tutto. Si può dire cazzate? Si può dire. Ah, perfetto. Abbiamo sentito anche di peggio in questa trasmissione. Ah, sì? Un giorno che dirà. Ottimo! Ad ogni modo, poi c'è il canale YouTube, sempre Nuclear Detonation, oppure... Se vi va potete mettere mi piace sulla pagina Facebook della nostra casa discografica, la Senseless Life Records. Esatto, perché il gruppo è recentemente nuovo, però comunque è già prodata all'accordo con un'etichetta discografica. Che importanza ha avuto questo evento e che importanza ha per l'artista il sistema discografico? Bene, guarda, dal mio punto di vista, dal mio personalissimo parere, la maggior parte delle etichette discografiche, anche parlando delle indipendenti, di questo periodo, beccano un po' di correttezza. Molte di queste si fanno pagare per una produzione, anche per quella qualsiasi, anche per la stampa del disco fanno pagare. E i dischi non è che ti arrivano, eh. Fanno pagare la stampa del disco, poi loro distribuiscono il disco e poi magari a te vengono 70-80 centesimi a copia. E' una cosa davvero ridicola, non è che nel senso loro si fanno i soldi con la tua musica, tra l'altro tu li paghi per farsi i soldi con la tua musica, è proprio un paradosso, no? E infatti abbiamo rifiutato pure un paio di offerte da alcune di queste case discografiche un po', chiamiamoli, imbroglioni, no? Cioè che ti diceva, sì, vabbè, ti produciamo, 150 euro al mese per due anni. Ah, sti cazzi, mi compro la macchina. Che cazzo avete in testa, no? Quindi è un ambiente un po' particolare, diciamo, ancora da definire. E a noi è andata bene, in quanto la Scentless Life Records ci ha proposto entrare nel suo roster, non appena la case discografiche è stata fondata, grazie al singolo Down to Hell, prodotto proprio qui, da Teresa. Da Teresa. Con Teresa e Enzo Lodondaro, batterista che la c'è il FIAR, bassista nei donatori di organo, un grandissimo ragazzo. E grazie anche a questo singolo, ripeto, Down to Hell, la Scentless Life Records ci ha avanzato questa proposta. E il contratto è ottimo, ovviamente noi non sborsiamo una lira perché è così che si fa. Pippo è convocato, fuori dalle palle. Perché alla fine è così che si fa, noi facciamo far soldi, sì, alla casa discografica con la vostra musica, però le royalties vanno pure a noi. Certo. E tutto qui, la casa discografica è corretta, noi siamo corretti con lei e i Neyang sono bilanciati. Il vostro gruppo nasce e cresce nella scena reggina, come la vedete voi, come la vedete dal vostro punto di vista? E cosa manca per aiutare le nuove realtà, le nuove band a crescere? Beh, iniziamo a dire che intanto a Reggio Calabria in Metal è un po' associato, sai com'è? Satana. No? Oppure Casino. Beh, che so, va, è come se vado ad ascoltare un gruppo che fa pop rock e lo associo, chi era quello lì che è stato accusato di pedofilia? Quello di Modà. Un componente di Modà, sì, ok, io vado ad ascoltare un progetto, è il fonico di Modà, no? Che forse è stato l'ex guitarrista, una cosa. Vado ad ascoltare un progetto pop rock, no, 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 che cazzo, qua sono tutti pedofili, no, vado via, siamo pazzi. Quindi, a Reggio intanto è da aggiustare un po' con una chiave inglese, magari data proprio sulla testa, la mentalità, reggina, no? Un po' tutto questo. E poi, come diciamo prima di essere privata, è proprio il posto dove suonare, non c'è un posto dove suonare. A parte comunque sempre qui l'LM Studio di Teresa, di Teresa Maschenà. Una ragazza che ci ospita a casa sua, perché ragazzi, noi siamo qui a fa casino, a fare heavy metal fino all'una e mezza di notte. E lei sta sopra, eh. Se magari vuole riposare, no, ci sono i ragazzi sotto che fanno un po' di casino, no? Quindi in solitarietà anche a Teresa e alla sua esperienza artistica. No, grazie a Teresa. A parte che è un'artista affermata, è una grandissima ragazza che ci permette di sfogare, cioè di esprimere la nostra musica, no? Sì, assolutamente. Sono bellissime realtà, reggine. La domanda che faccio a tutti i miei ospiti alla fine, quella finale, quella più, diciamo, significativa. I Nuclear Detonation, sindaco per un giorno di una città. Magari voi potete immaginare anche sindaco di Reggio Calabria per un giorno, anche se in questo periodo è una posizione abbastanza scomoda. Cosa fareste, cosa attuereste subito per risollevare le sorti di questa città nelle vostre mani? Oh, è dura, eh. Guardi, guarda. Ma va, ho più capelli bianchi io e ne ho anche di meno. La cultura. Reggio, come ormai è in Italia, che una volta fu la culla della cultura, adesso proprio... Cioè, sono rimasti lì, no? Sono rimasti i bambini. E Reggio penso sia proprio la cartina al torna sole di quest'Italia. Ci si ferma il Grande Fratello, ci si ferma il Jersey Shore, e poi magari dici, chi è Platone? Ah, quello del numero 10 del Cagliari, no, no, un attimo, mi sai che stai sbagliando. Ecco, bisognerebbe pensare già a coltivare questa cultura, come fosse una pianta. La cultura può essere espressa con la musica, la letteratura, tutto il resto, ma... Che so, anche lo sport può essere una questione di cultura. Come dicevamo prima, io ho un ex nazionale di Caleggera, ora mi vedo il coni di Reggio chiudere. Senza un... Una situazione critica che si è creata in questi giorni, dove la struttura è destinata a chiudere. È ridicolo, davvero. Anche perché chiudono per i bagni. Cioè, i bagni sono perfetti, non sono rotti, funzionano, solo che non sono sanificati. Falli sanificare e riapri il campo. Parlo di questo perché comunque vorrei fare un parallelo fra musica e sport. Sono due, forse, gli unici linguaggi universali, no? E... Quando stai in mezzo a un concerto, scotti una band che ti piace, con il ragazzo o la ragazza che sta accanto, non ti viene di dare lei. Gli hai subito del tu, prendi subito di confidenza. Magari ci puoi pure se è un bel ragazzo o un bello grosso e non è una ragazza, no? Prendi subito di confidenza. Questo è un bel linguaggio. Lo sport è uguale. Dipende anche dalla ragazza, d'accordo? Questa fratella, se vieni a fogare tu con me... Ti ammazzo, lo faremo, abbiamo tre gruppi per fogare. Dopo noi. Stesso per quanto riguarda lo sport. Finisci una gara, magari non ti conosci, ma ti dai già del tu, ti presenti e tutto il resto. C'è questo tipo di fratellanza che si instaura dopo una gara. Prima della gara, ovviamente in quei secondi della gara sei anche un po' in attrito, però dopo, prima della gara, sei amico dei tuoi avversari, anche di persone che non hai mai conosciuto. Ci fai subito l'amicizia, perché sport e musica sono due dei linguaggi più universali a questo mondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro io nella struttura Lausobac ospito anche questi concerti e ho visto proprio questa grande fratellanza che unisce gli artisti. Cioè tu li immagini da casa tua, chissà come minacciosi, eccetera. Poi si incontrano e sono ragazzi che si abbracciano, che ti danno una mano se devi portare qualcosa. E questo è bellissimo. Ma comunque ragazzi, loro sono i Nuclear Detonation, li potete trovare sui vari social ai loro recapiti internet e noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale.